Una medaglia ce l'hanno. E adesso vedete Tatiana Volososchar, Maxim Trankov, pronti per partire. Lei ha 26 anni, luni ha 29, sono i campioni d'Europa uscenti. Si esibiranno sulle musiche di Ikuko Kavai, sulla partita per violino numero 2 di Johann Sebastian Bach. E Chacon di Tommaso Vitali, primi dopo il programma corto, il loro record personale questa stagione, 132 punti e 79, per andare al comando 114 punti e 23. Grazie. 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 le piccole incertezze lui ha puntato il dito al cielo, scusatemi ma sono un po' emozionato veramente ti si chiude la gola in questi momenti non riesci più a parlare perché poi conosciamo, lui è un ragazzo io l'ho conosciuto anche in allenamento un ragazzo d'oro e sono veramente contento, nello stesso momento anche un po' rattristato comunque come dicevi tu degli elementi tutti di livello 4 di una qualità pregevole tutte delle valutazioni positive e questo farà la differenza dell'interpretazione 9 vediamo adesso il punteggio ma sarà un punteggione, ci sono state delle incertezze sui salti lanciati ma delle sbavature devo dire in un programma molto intenso, molto ricco da veri campioni veramente io non so come abbia potuto pattinare ma sicuramente c'è qualcuno che gli ha dato la forza di farlo sicuramente e un bravo ancora per lui per tutti e per tutto lo staff che gli sta intorno andiamo a vedere questo è il bellissimo twist triplo altissimo questo è il triplo salcov bene eseguito dalla coppia russa questo è l'altro salto paralleleo triplo tolup doppio tolup di tatiana e maxime anche la spirale interno avanti di livello 4 ricordiamo che è il massimo livello raggiungibile il 4 molto in unisono nelle trottole ecco questo l'unico errore avete visto era arrivato sulla punta sbilanciato in avanti ha dovuto mettere giù le zampe le mani eh sì nel triplo riberger nel triplo riberger lanciato molto bello anche il triplo salcov su due piedi e infatti sono gli unici due elementi che hanno una valutazione negativa ma dopo tutti gli elementi con una valutazione positiva e molto positiva vuol dire oltre che a livelli anche come li hanno eseguiti con un'intensità una un'intensità veramente unica vediamo adesso cosa penserà la giuria sorride tatiana maxime non ce la fa vediamo un po' si accenna un sorriso 67 punti e 39 per gli elementi tecnici si sale moltissimo per quanto riguarda le 5 componenti vi ho detto 9.18 per l'interpretazione per la qualità del pattinaggio 9.04 per le coreografie veramente 3.9 non si vedono non è usuale veramente fantastici 212.45 il loro punteggio totale hanno superato di molto